Per rinnovare il tuo dominio Aruba, accedi alla pagina managehosting.aruba.it con lo username Aruba e la relativa password. All'interno del pannello visualizzerai l'elenco dei domini collegati al tuo username. Se hai diversi domini e quello prossimo alla scadenza non è visibile in elenco, utilizza il campo di ricerca per trovarlo. Una volta individuato, clicca il pulsante rinnova in corrispondenza dello stesso. Seleziona il dominio che intendi rinnovare modificando o aggiungendo nuovi servizi. Prosegui. Alla pagina database in scadenza, scegli il database che vuoi rinnovare. Procedi con l'ordine. Potrai successivamente editare i dati fatturazione del dominio e inserire l'eventuale identificativo per la fatturazione elettronica. Prosegui. Scegli la frequenza di rinnovo per il dominio, per gli eventuali database ed altri servizi aggiuntivi selezionati. Accetta le condizioni contrattuali del servizio, spuntando le caselle corrispondenti e il metodo di pagamento che preferisci. In caso di pagamento con carta di credito o PayPal, il rinnovo automatico è attivato di default sull'ordine effettuato. L'impostazione è modificabile in qualsiasi momento dall'area clienti. Per maggiori dettagli sulla procedura, consulta la videoguida dedicata. Ben fatto! Il tuo ordine è andato a buon fine, ma il rinnovo è completo solo dopo la registrazione del pagamento da parte di Aruba e si conclude con la ricezione della comunicazione di conferma all'indirizzo email presente in anagrafica.